La Regione Puglia rafforza il contrasto all'abbandono incontrollato dei rifiuti. Attraverso l'utilizzo di fototrappole e droni di ultima generazione, gli operatori del Nucleo di Vigilanza Ambientale scoveranno e sanzioneranno chi continua ad abbandonare i propri rifiuti, senza rispetto delle inestimabili bellezze della nostra terra. Abbandonare i rifiuti sul territorio, oltre a costituire un reato, deturpa una regione così bella come la Puglia e sottrae risorse alle amministrazioni pubbliche. Non abbandonare i rifiuti, utilizza gli appositi contenitori, o vai all'isola ecologica della tua città. Campagna di comunicazione di Regione Puglia, finanziata dal POR Puglia 2014-2020, Azione 6.8